Allora, ieri abbiamo dimostrato la formula di Piero. In particolare, oggi cominciamo a sviluppare alcune formule di Piero, in particolare quelle di punto iniziale nullo che si chiamano formule di McLaughlin. Allora, cominciamo con qualche esercizio semplice. Allora, supponiamo di Piero un polinomio, P di x, prendo un polinomio di grado basso, per esempio, 1 più 2x meno 2, questo è un polinomio di grado 3. Allora, per prima cosa, verifichiamo che il polinomio coincide con la sua formula di Diero di McLaughlin di grado 3. Perché? Allora, P di 0, allora, cominciamo a fare i derivati. Il primo di x uguale 2 meno 3 di x4. Il secondo di x uguale meno 6 di x. Il terzo di x uguale meno 6. P di x uguale meno 3 di x, sta per tutto questo. Allora, se adesso io devo andare a scrivere un polinomio nel punto x, cosa mi dice, ragazzi, su, non è che ci vuole dare. Cosa mi dice la formula di Diero di punto iniziale nulla? Mi dice che questo qui deve essere uguale alla somma per h che va da 0 a 3 della derivata alchesima di P nel punto 0 fratto h fattoriale per x alla h più la derivata quarta di P, calcolata in punto x per x fratto 4 fattoriale. Qua l'abbiamo scritta con il resto di lagrano. Allora, punto numero, diciamo, prima osservazione, questo vezzo si annulla, perché la derivata quarta, siccome è nulla da perfetto, questo vezzo qua non fa 0. Quindi, in realtà, otteniamo subito che il polinomio deve essere uguale alla somma della sua forma di peccato di grado 3. Ora, però, chi è P di 0? P di 0 fa 1. P primo di 0 fa 2. P secondo di 0 fa 0. e P terzo di 0 fa meno 6. Quando quindi andiamo a scrivere questa formula, P di x cosa viene? Viene P di 0 più P di 1 più P primo di 0, scusate, per x più P secondo di 0 mezzo per x quadro più P terzo di 0, scusate per x quadro. Ma quando andiamo a sostituire, P di 0 fa 1 più 2x, il secondo di 0 fa 0, questo pezzo non c'è, poi abbiamo meno 6, scusate, x quadro. Semplificate e ritrovate il polinomio di partenza. Quindi, per familiarizzare con la formula di McLaurin o di Taylor, che sarebbe quella di Taylor di punto di iniziale nullo, ricordatevi che deve funzionare su tutti i polinomi. E ricordatevi che sui polinomi, quando andiamo a scrivere il resto, diciamo, di ordine superiore al grado del polinomio, e questo resto deve essere nullo. Perché la derivata di ordine superiore al grado del polinomio è z. Da per tutto. Siccome con la formula di Alcrancio, ci dice che questa vale con la derivata calcolata da qualche parte, ovunque la derivata è nulla, questo pezzo sparisce. Allora, qua diciamo, uno sembra che sia dicendo una tautologia, cioè il polinomio è questo perché è questo. In realtà, questa tautologia può servire a ricordarsi la formula di Taylor, perché se uno ha dei dubbi su come è strutturata, però va qua a vedere se ricostruisce il polinomio, se non lo ricostruisce vuol dire che non andrà bene. A volte, in genere, uno magari se la ricorda, però sbaglia a scrivere qualcosa, quando va a fare la prova, vede dove sbaglia e corregge. È chiaro che fino a qui, mi sembra lineare le polse, ma andiamo... andiamo a fare un'altra applicazione della formula di Taylor. Prima di riscrivere la formula di Taylor di questo polinomio di punto iniziale 1. Allora, le derivate sono sempre le stesse di prima. Il primo di x era 2-3x², P secondo di x era meno 6x, il terzo di x era meno 6, e la derivata quarta e tutte le successive sono nulle. e quindi, adesso, invece di svilupparlo nel punto 0, andiamo a svilupparlo nel punto 3. Voglio svilupparlo, voglio applicarlo alla formula di Taylor, di punto iniziale 3. cosa mi dice che P di x deve essere uguale alla somma per h che va da 0 a 3 della derivata achesima di P calcolata nel punto 3 stavolta, perché il puniziale è 3, fratto h! fattoriale per x meno 3 alla h più il resto, ma il resto è una derivata quarta, dovunque la si calcoli farà 0. E quindi, per la stessa osservazione di prima, il resto non c'è. È chiaro? Adesso andiamo a sostituire. Allora, per fare la sostituzione, devo calcolarmi le derivate nel punto 3. Allora, P di 3 fa 1 più 2 per 3 fa 6, 3 più 1 fa 7, meno 27 fa meno 20. P primo di 3 fa 2 meno 27 fa meno 25. P secondo di 3 fa meno 18, il terzo di 3 fa meno 6, e poi basta perché fino a 6 mi serve la formula, già avevamo visto che non c'era questo. Quindi, cosa devo scrivere? Derivata a 0 vuol dire P di 3, 0 fattoriale, questo alla 0 fa meno 20. quindi P di 3 fa meno 20, poi meno 25 per x meno 3, meno 18 per x meno 3, 18 mezzi per x meno 3 al quadrato, perché devo fare la derivata seconda, calcolata in 3, fratto 2 fattoriale, quindi mezzi per x meno 3 al quadrato, meno 6 sesti per x meno 3 al quadrato. Allora, semplificando, supponiamo che io voglia fare la sostituzione adesso x meno 3 uguale a t, allora questo coordinamento diventa meno 20, il meno lo metto davanti a tutto perché tanto sono tutti con meno, meno 20 più 25t più 9 di 4 più t. Allora, x meno 3 uguale a t equivale a fare la sostituzione x uguale a t più 3. Allora, immaginate di avere questo polinomio, lo riscrivo qua, p di x è uguale a 1 più 2x meno x cuba e di fare la sostituzione x uguale a t più 3. Andate, cioè, supponete che dobbiate, supponete di dover fare questo esercizio qua. Allora, io che cosa ottengo? Il mio polinomio diventa p di t più 3 che diventa 1 più 2 volte per t 3 meno t più 3 al cubo uguale 1 più 2t più 6 meno t cubo più 27t quadro più 9 9t quadro più 27t più 27. Adesso fate la somma e vi viene 1 più 6 meno 27 fa meno 20 2 meno 27t fa meno 25t meno 9t quadro meno t cubo ho usato per sviluppare il cubo il cubo del binomio e quindi otteniamo lo stesso risultato. Ora, quale dei due risultati è più veloce? Dipende se ve la cavate bene con l'algebra o no. Però in ogni caso farlo in questo modo è un utile controllo del risultato fatto in questo modo e viceversa. Quindi, come applicazione la formula di Taylor mi può servire a fare una sostituzione per traslazione quindi se io devo fare una sostituzione del tipo x uguale t più una costante allora faccio t uguale a x meno quella costante sviluppo di punto iniziale quella costante per esempio in questo caso della 3 e a quel punto mi riscrivo la mia formula di Taylor nel punto 3 e poi la sostituzione diventa migliore. Oppure posso fare la sostituzione direttamente nel polinomio senza usare nessuna formula di Taylor però mi devo fare tutti i binomi di Newton. Immaginate che se per esempio il polinomio questo qua era di grado 10 quando arrivavo a poter fare una potenza decima eh insomma era piuttosto oneroso invece lì era più facile perché in ogni caso era un diverso non è che fosse più facile ma alla fine i conti sono sostanzialmente gli stessi però era un diverso modo di organizzare i conti. E' chiaro questo? Sì Prima applicazione ricordatevi le formule di Taylor devono venire per tutte le funzioni sotto le ipotesi e quindi sicuramente valgono per tutti anzi per i polinomi quando arriviamo una formula di Taylor di qualunque punto iniziale fino al grado del polinomio il resto no è sicuramente zero perché tutte le derivate di ordine superiore al grado del polinomio sono sicuramente nulla chiaro? Bene ma questa è la prima applicazione ovviamente una volta che avete visto un'applicazione del genere non è che vi state fate questo qua e basta e poi a casa ne prendete e lo fate un altro paio di volte da su se no non c'è il senso non c'è non è che ne posso fare mi sa quanto ok adesso andiamo a vedere iniziamo in maniera diciamo così soffita facciamo ricaviamo le formule di McLaurin per un po' di funzioni almeno per funzioni di cui conosciamo molto bene come si fa con le derivate cominciamo con l'esponenziale e poi facciamo seno coseno se è iperbolico o se è iperbolico queste sono le più facili allora cominciamo con P di x uguale e alla x f di x non è un problema allora la derivata a chesima di f nel punto x fa sempre e alla x la derivata a chesima di f nel punto 0 fa sempre e alla 0 cioè fa sempre 1 allora cosa mi dice per esempio la formula di Taylor di McLaurin di questa funzione fino all'ordine 3 abbiamo e alla x uguale alla somma per h che va da 0 a 3 della derivata a chesima della f calcolata in 0 fratto h per x alla a più la derivata 4 di f calcolata in c per x alla 4 fratto 4 quindi sarebbe a dire 1 più x più x 4 mezzi più x cubo sesti più e alla xi per x alla quarta 24 dove xi è un punto minore di x in valorazione ok allora ci sono dei casi in cui questa formula mi è utile per approssimare molto bene il valore il valore di e alla x per esempio supponiamo che x sia un 4 qua ovviamente se avessi voluto usare il resto in forma di peano avrei dovuto scrivere o piccolo di x al 1 che avrei dovuto scrivere semplicemente che l'infinitesimo che rimaneva per x che tende a 0 perché qua il punto iniziale abbiamo preso 0 per il modo di metto l'auto era è un infinitesimo di ordine al terzo e infatti di ordine al terzo allora supponiamo caso particolare x uguale a un quarto e alla un quarto è uguale a 1 più un quarto più un trentaduesimo più un quarto al cubo fa un sessantaquattresimo per 6 fa 384 più il resto il resto più o meno e alla xi e alla xi sarà compreso tra e alla 0 che fa 1 e alla un quarto che fa e alla un quarto ma e alla un quarto sicuramente è minore di 2 perché è minore di 2 perché anzi minore di radice di 2 per esempio perché in realtà è ancora più piccolo adesso lo stiamo per calcolare però perché posso dire che è minore di radice di 2 io mi ricordo vi ricordo che noi abbiamo già dimostrato che e è compreso tra 2 e 3 allora se io faccio questa la quarta potenza qua mi viene 4 e quindi sicuramente qua ci potrei mettere la più quarta di 3 però questa disguaglianza è sicuramente vera quindi qua c'è un resto R R è sicuramente maggiore di 1 fratto 24 per 4 alla 4 per 256 ed è minore supponiamo che x sia positivo ah x è positivo è un 4 ed è minore di radical 2 fratto 24 per 256 allora se io prendessi per esempio 1.2 fratto questa 24 per 256 24 per 256 è circa 6.000 1.2 fratto 1.2 fratto allora R è circa 1 su 5000 uguale circa 2 per 10 alla meno 4 e di quanto sbaglio qui è 1 fratto 6000 qua è 1.4 fratto 6000 sempre città posso sbagliare di 0.2 fratto 5000 cioè l'errore se uso questo come correzione l'errore scenderà a 1 su 25 quindi scenderà sulla quinta cifra decimata ok a questo punto uno può semplicemente rischiamo che uno avesse solo la calcolatrice come c'era una volta senza esponenziali senza 2 si fa questo conto ci aggiunge 1 5 millesimo e sa che probabilmente 4 cifra decimale di questo sono esattamente se poi vuole calcolare 3 cifra decimale di e prende questo e farla qua probabilmente 3 cifra decimale di e saranno esattamente chiaro? questo è un modo di approssimare le funzioni dice se volevo calcolare e non potevo applicare direttamente quella formula di Taylor a 1 si lo posso fare a 1 però i termini da calcolare per avere un certo numero di cifra decimale saranno molti di più per quale motivo? se ci mettete 1 qua vedete che le potenze non scendono avete che il termine scende soltanto perché il denominatore n fattoriale sale ma le potenze invece se volete calcolare una di queste funzioni in un punto un po' più vicino a 1 effettivamente si riesce a fare bene allora diciamo che qual è il piano per esempio se io volessi calcolare e allora qui potrei andare avanti con un altro paio di termini se andassero avanti con un altro paio di termini sicuramente arriverei a parecchio cifra decimale perché se metto un altro di due termini poi avrò x alla 6 su 720 un quarto alla 6 comincia a essere 1 su 2 alla 12 che comincia a fare 1 su 4000 4000 per 720 secondo 2.000 quindi siamo arrivati alla settima decimale poi il fatto di fare la quarta potenza dalla settima decimale farà capire scendere alla sesta decimale quindi però è chiaro che se voglio molte cifre decimali questi conti ne devo fare un po' non è che posso cavarmela troppo a buon mercato però se volessi solo 3 cifre decimali di E probabilmente già prendendo questo numero levandolo da 4 ce la faccio chiaro? ok adesso però non abbiamo risposto al discorso qual è la formula di McLaren di questa funzione in generale E alla x come lo posso scrivere? lo posso scrivere come somma per h che va da 0 a n della d la derivata alchesima della f è sempre alla x valutata in 0 va sempre 1 quindi qua mi viene x alla h su h fattoriale più o piccolo x alla h questo discorso vale per ogni n se qua invece questo tipo di formula vale per ogni n appartenente a n n l'avete fissato come numero naturale potete anche scrivere se preferite però noi scriveremo quasi sempre il resto in forma di piano il resto in forma di Lagrange ci serve quando dobbiamo andare materialmente a calcolare e approssimare la fusione se no la formula in genere si scrive corretto in forma di piano se lo voglio scrivere corretto in forma di Lagrange devo scrivere così somma per h che va da 0 a n x alla a fratto h fattoriale più qua ci devo mettere e alla xi per x alla n più 1 fratto n più 1 fattoriale dove xi è minore x questo perché in questo caso il resto di Lagrange si calcola ed è i alla xi l'unica cosa che non sappiamo è dove sta xi sta tra 0 e x o tra x e 0 è chiaro? quindi questa è la prima formula di McClary che ci possiamo mettere da parte se la volete scrivere per esteso questa formula di McClary come si può scrivere 1 più x più x quadro mezzi più puntini puntini più x alla n questo n fattoriale più un po' n di questa è chiaro? vi dovete abituare ormai alla notazione posso scrivere in forma compatta come sommatorio posso scrivere per esteso ma alla fine sembra la stessa cosa chiaro? bene andiamo a fare la stessa cosa per la funzione seno con la funzione seno vedremo che la formula di Taylor è una base molto la gomma di McClary più precisamente è la base molto efficace per calcolare i valori della funzione seno non solo lei ma unita al fatto che conosciamo la periodicità dell'anno cominciamo a scrivere che è che f di x è uguale a seno allora noi sappiamo che la derivata prima di f è coseno la derivata seconda di f è meno seno e la derivata quarta di f è di nuovo seno l'ora in poi è inutile ripetere le derivate perché saranno sempre semplicamente queste qui per esempio la derivata duecentocinquantasettesima di seno farà così che duecentocinquantasei divisibile per quattro quindi ogni volta che il numero è divisibile per quattro la derivata di seno fa seno e poi l'ultima derivata duecentocinquantasettesima la seno fa così quindi dipende se voglio calcolare la derivata di un certo ordine dipende soltanto quest'ordine che resto mi dà quando lo vado a dire se mi dà resto 0 la derivata fa la seno se mi dà resto 1 la derivata fa la coseno se mi dà resto 2 la derivata fa la meno se mi dà resto 3 la derivata fa la meno coseno quindi cosa posso dire io qui posso dire per esempio che seno di x a chi è uguale ora tutte queste derivate se la formula è di meccanica devono essere calcolate in 0 allora in 0 le derivate di ordine pari sono seno o meno seno quindi fanno tutte 0 mentre le derivate di ordine dispari coseno di 0 farà 1 coseno di meno coseno di 0 farà meno 1 quindi cosa mi succede che qui avrò va bene seno di 0 che fa 0 poi avrò la derivata prima calcolata in 0 che fa 1 per x poi avrò termini di ordine 2 che farà 0 però avrò meno x cubo sesti perché avrò la derivata di ordine 3 che fa meno 1 per x cubo fratto 3 fattoriale la successiva sarà la derivata di ordine 5 che fa più 1 per x alla 5 su 5 fattoriale la successiva sarà meno x alla 7 7 fattoriale la successiva sarà più x alla 9 su 9 fattoriale meno x alla 11 su 11 fattoriale così via allora se ci vogliamo fermare qua se vogliamo scrivere il resto in forma di piano cosa possiamo scrivere? più o piccolo? di x alla 12 posso anche scrivere più o piccolo di x alla 11 è corretto ugualmente però se tengo conto del fatto che la derivata del dittesimo è in 0 parà 0 posso scrivere direttamente più o piccolo di x alla 11 o se invece voglio scrivere il resto in forma di Lagrange qua dovrò scrivere la derivata tredicesima di seno è coseno quindi dovrò scrivere coseno di xi per x alla 13 su 13 fattoriale questo è il mio resto r allora supponiamo chi voler costruire le tavole della funzione seno allora x però sulle tavole della funzione seno voi non avete mai usato le tavole altrimenti non lo sapete x veniva riportato soltanto per i valori tra 0 e x di greco 4 tra 0 e 45 gradi perché? le tavole davano i valori della funzione seno e coseno tra 0 e 45 gradi perché? perché se l'angolo era maggiore di 45 gradi io tramite le relazioni che ci sono fiacchi associati potevo ricondurmi un seno e un coseno compreso tra 0 e 90 poi quando arrivavo tra 0 e 90 gradi per esempio dovevo calcolare coseno di 60 coseno di 60 sapete che è uguale a seno di 30 gradi quindi se il radianti x è compreso tra piccolo 4 e piccolo 3 seno di x è uguale a coseno di piccolo 3 e viceversa coseno di x è uguale a seno di piccolo 3 quindi una volta costruite le funzioni seno e coseno tra 0 e piccolo 4 tutto il resto si può ricavare tramite tramite le formule sui seni e coseni degli angoli notenti insomma gli angoli complementari oppure degli anche associati ok allora perché scrivo la 0 e piccolo 4? perché voglio stimare il resto allora il resto in valore assoluto diciamo a che cosa anzi in questo caso noi sappiamo che il resto è positivo va bene mettiamo il valore assoluto che è meno è meno o uguale del valore assoluto di questo ma questo qua è un coseno coseno dappertutto sappiamo che è meno o uguale di 1 quindi è meno o uguale di x alla 13 il valore assoluto fratto 13 fattoriale se x è uguale a pi greco 4 viene pi greco 4 alla 13 su 13 fattoriale allora 13 fattoriale quanto fa? allora 8 fattoriale fa 40.320 10 fattoriale fa 3 milioni e 6 11 fattoriale fa circa 40 milioni 12 fattoriale farà 480 milioni 13 fattoriale farà più di 6 miliardi quindi stiamo parlando 1 su 6 miliardi stiamo parlando della decima cittura decente non solo ma questo valore qua anche esso è minore di 1 perché pi greco 4 è minore di 0,8 0,8 al cubo è circa un mezzo un mezzo alla più di 4 perché 13 diviso 3 fa più di 4 questo qua sarà pure lui circa un ventesimo un ventesimo di un 6 miliardesimo stiamo parlando di 1 meno di 1 su 100 miliardi quindi questo arresto sicuramente se avete una calcolatrice normale che porta 8 cifre decimate cioè 9 cifre di cui 8 dopo la vista sicuramente non vi va molto probabilmente perché c'è sempre il caso dei riporti però molto probabilmente non vi va a cambiare il valore cioè diventa insignificante sulla calcolatrice non lo vedete ma naturalmente questo non significa aver calcolato per esempio supponiamo che io voglio calcolare seno di 1 devo fare 1 beh no 1 è più grande di 4 ma io devo fare seno di 1 mezzo allora devo fare 1 mezzo meno e tutta sta roba qua sto studiando x uguale a 1 mezzo il problema qual è? è che questo conto richiede un po' di tempo no? questo tempo era giustificato una volta se si faceva una volta per tutte si metteva nelle tavole il valore diciamo di certi numeri di cifre decimali del seno e poi quando serviva si andava a cercare nelle tavole ovviamente adesso non c'è più senso di farlo in questo modo perché la calcolatrice questi pochi conti ve li fa nel tempo che voi schiacciate il tasso quindi la calcolatrice ha un programmino al suo interno che vi riesce a fare questi conti in tempo reale e vi risponde qualunque sia l'argomento che mettiate al posto di x vi fa prima la riduzione tramite gli archi associati poi una volta che si è ridotta al calcolo di un seno di un coseno tra con l'angolo espresso di radianti tra 0 e pi greco 4 a quel punto per esempio fa questo piccolo diluppo in formula di meccanio calcola i valori di sottotitoli fa il calcolo e vi risponde il risultato come vedete non è un calcolo oneroso per una calcolatrice da fare è un calcolo molto monologico chiaro? ok allora andiamo quindi a scrivere la nostra formula di mclavin qua c'è più un problema di scriverla in maniera formale allora come posso scrivere in maniera formale se ho di x uguale allora io dico che è la somma per h che va da 0 a n di meno 1 alla h per x alla 2 h più 1 fratto 2 h più 1 fattoriale più o piccolo di x alla 2 n allora fate attenzione in questo caso per esempio n uguale 5 allora facciamo a vedere il primo termine chi è? meno 1 mettiamo h uguale a 0 meno 1 a 0 fa 1 x alla 2 h più 1 fa x perché 2 h fa 0 2 h più 1 fa 1 2 h più 1 fattoriale fa 1 il primo termine viene x poi il secondo termine fa h uguale 1 quindi viene meno 1 alla 1 quindi stavolta viene meno 1 x 2 h più 1 fa 3 quindi qua viene x fattoriale e 3 fattoriale fa 6 quindi il secondo termine viene meno il scopo 6 più x alla 5 5 fattoriale meno x alla 6 più 7 fattoriale più eccetera eccetera più l'ultimo termine chi è? è meno 1 alla n x alla 2 n più fratto 2 n più 1 fattoriale più o piccolo x alla 2 n questo perché? perché il termine successivo è di ordine 2 n n appartiene allora se ci fate caso se ci fate caso qui n stavolta non è l'ordine di derivazione massima abbiamo voluto compendiare nella nostra formula solo i termini diversi da z e allora n l'ordine di derivazione h deve descrivere soltanto gli ordini di derivazione dispari perché solo nei casi dispari le derivate calcolate in zero sono diverse da zero e quindi avremo le potenze di h solo dispari ma le potenze di h solo dispari si esprimono come x alla 2 h con h che parte però da zero perché se h parte da zero su h più uno parte da uno che è il primo intero e a quel punto mettiamo un segno alterno meno uno all'h che rende conto del fatto che ogni due derivate e la derivata del seno cambia segno e poi ci dobbiamo mettere il resto della formula di Meclat cioè se la derivata è h più unesima quindi è meno uno all'h sotto ci dobbiamo mettere il 2 h più uno parte di meclat e quindi qua mi viene questa formula qui sto dicendo che siccome questa formula arriva all'ordine infinitesimo 2n più uno quello che mi avanzerà sarà scrivendo il resto in forma di P un infinitesimo di ordine x alla 2n più 2 chiaro? quindi questa è la formula del seno ok prima di fare la pausa facciamo quella del coseno quella del coseno dice ci abbiamo messo 20 minuti a fare quella del seno ora ci mancano 5 minuti alla pausa come fai a fare quella del coseno quella del coseno è molto facile da fare perché è questa qui somma per h che va da 0 a n di meno uno alla h x alla 2h alla 2h fratto 2h fattoriale più o piccolo di x alla 2n scritta per le stesse sarebbe 1 meno x quadro mezzi più x alla quarta su 4 fattoriale più eccetera eccetera più meno 1 alla n x alla 2n x alla 2n su 2n fattoriale più o piccolo x alla 2n più 1 allora perché è così dobbiamo giustificarlo in 4 minuti allora se questa se la funzione f diventa coseno questa sarà la derivata prima questa sarà la derivata seconda e questa sarà la derivata terza chiaro? la derivata quarta sarà di nuovo coseno allora cominciamo a vedere che ci troviamo fino ai primi ordini allora la funzione in 0 vale coseno di 0 che fa 1 la derivata prima in 0 fa 0 la derivata seconda in 0 fa meno 1 che bisogna dividere per 2 fattoriale e moltiplicare per gli schemi la derivata terza in 0 fa di nuovo 0 la derivata quarta fa di nuovo 1 che va diviso per 4 fattoriale moltiplicato per x alla quarta e così quindi si capisce si intuisce lo schema però vi invito a notare un altro un altro collegamento noi sappiamo che la derivata di seno è coseno provate a prendere tutti i termini della diciamo che ci sono nella formula che mi dà l'espressione della forma di metterlo in del seno e derivati 1 alla volta la derivata di x fa 1 la derivata di questo fa questo la derivata di questo fa 2 e così quindi perché qua viene 2 alla h perché la derivata di x alla 2h più 1 è 2h più 1 per x alla 2h e x alla 2h rimane 2h più 1 e 2h più 1 fattoriali se semplifica con 2h più 1 mi rimane 2h fattoriali chiaro? poi devo tener conto che comunque quando vado a sviluppare l'ordine scalato di 1 quindi qua è o piccolo di x alla 20 che tu vuoi cosa o piccolo di x quindi andare a sviluppare le formule di McLaurin di seno di e alla x di sen x e di coseno di x è qualcosa di tutto sommato piuttosto semplice piuttosto semplice ma abbastanza efficace nel momento in cui volessimo andare a calcolare queste funzioni soprattutto ovviamente se vogliamo andare a calcolare le funzioni adesso dovrei esprimere in forma di Lagrange ma quando andiamo a esprimere in forma di Lagrange comunque la derivata sarà sempre di seno coseno meno seno meno coseno da qualche parte quindi la derivata la posso maggiorare con 1 e poi ci sta l'altro pezzo insomma è facile maggiorare va bene pausa grazie